Bonus nascita? Sei incinta? Aspetti un bambino? Sei arrivato all'ottavo mese? Devi partorire tra poco? Hai appena partorito? Quali sono i bonus? Ti spiego tutto. Primo, bisogna attendere che il bambino nasca, non è più come prima. Non si fa la domanda all'ottavo mese, si fa alla nascita. Quale domanda? Non si chiama più bonus mamma domani, ma si chiama assegno unico universale. L'assegno unico universale ha preso, ha assorbito bonus bebè, mamma domani e gli assegni. Negli assegni unico universali troverai anche le detrazioni. Presentando la domanda di assegno unico universale tu prenderai anche mesi anteparto, così come era con il bonus mamma domani. Presenta però, prima di presentare la domanda dell'assegno unico e universale, il tuo modello ISEE, perché dovrai andare a inserire all'interno del modello ISEE il codice fiscale del minore. Così tu potrai usufruire di quelle che sono le maggiorazioni che ti spettano sull'assegno unico universale per il tuo modello ISEE. Fatto questo, se il modello ISEE non è tanto alto, comunque confrontati con chi ti segue, col caffo, con il patronato che ti segue, puoi verificare se ti spetta anche il bonus mamma dei comuni, che sarebbe la maternità comunale, la carta acquisti per i minori di tre anni, e poi informati anche presso il tuo comune, perché ci sono tanti comuni che hanno attivato bonus pannolini e altri tipi di bonus, che io non posso conoscere perché i comuni in Italia sono migliaia, e quindi attivatevi poi voi per andare a parlare direttamente ai comuni e scoprire se ci sono dei bonus comunali. Detto questo, per tutte quante le domande su assegno unico, nascita e bonus, scrivimi qua, seguimi e metti un like. Ciao!